Buone notizie dall'infermeria. Salifu da alcuni giorni si allena con il resto della squadra. Domenica farà parte della Rosa che si recherà nel capologo Pentro. La sua esperienza sarà molto utile. Il commento del responsabile dell'area tecnica Mauro Marinelli. Tra i titolari previsto il rientro del difensore albanese che ha smaltito l'affaticamento muscolare. Stagione finita invece per Pippo Litterio. L'infortunio al ginocchio dovrebbe essere più grave del previsto. Si parla di rottura del crociato. Intanto c'è da battere l'Isernia. Il difensore Mattia Bisceglia pensa positivo, crede nella possibilità di sbancare il lancellotta. A me non piace essere negativo. Sono sempre positivo. Spero di andare a vincere a Isernia e lì significa metterci a più uno sull'Isernia. Poi come ho detto già prima Forlì e Avezzano hanno altre partite difficili quindi credo dobbiamo sperare nella posizione migliore nei play-out e ce la possiamo fare. Ci salviamo secondo me. Penso positivo. Vittoria necessaria per evitare la retrocessione diretta. All'Agnonese servono i gol degli attaccanti che nelle ultime quattro gare e negli eventuali play-out saranno decisivi. Ci sono attaccanti e attaccanti. C'è chi ha più il filo del gol e poi c'è chi ha più la fase di non possesso, più la sponda che ci copre palla, ci fa salire. Non ho problemi con questi attaccanti. Anzi, molte volte anche Loris ha fatto tre gol e ci ha regalato nove punti. Quindi arrivano anche i gol. Lo so che mancano poche partite però ci aiutano anche loro. Il Meco Monaco-Biss riparte dal pareggio ottenuto contro il Campobasso. Bisceia è rammaricato perché la vittoria non era poi così lontana. Prendere un gol dal novantesimo fa male. Ci sta un po' stretto perché loro sì hanno preso una traversa ma su una deviazione perché lì l'ho toccata, non so se si è visto. Però un po' stretto ci sta perché noi volevamo salvarci, avevamo più motivazioni di loro. Però purtroppo è andata così. Nessun demerito a noi, nessun merito a loro. Ci può stare. È un derby sentito per tutte e due le città. Il pari tuttavia è comunque un risultato positivo perché ottenuto contro una grande squadra è al termine di un match molto dispendioso. Abbiamo preso un gol nei minuti finali. Quindi eravamo lì. Stavamo quasi alla vittoria. Poi quel gol ci ha tagliato un po' le gambe. Al massimo ci siamo abbassati un po'. Però eravamo stanchi. Anche perché io personalmente non giocavo da tanto per vari infortuni. Quindi avevo un po' di crampi, di fatica in più rispetto agli avversari che attualmente stanno bene fisicamente. Sono una grande squadra per me.